ciao ragazzi ecco il mio ruota spesa allora pizza il ristorante della cameo al gusto funghi due confezioni di banane da due spesa fatta alla alla sigma vicino a casa mia patatine rustiche marchio sigma due due pacchetti di patatine tubini sono buonissimi yogurt da bere al gusto banana della milk patatine la blanca marchio amica snack sono buonissime le patatine normali sempre dell'amica chips da duetti caramelle al mentolo gemme di pino sono buonissime della macchia circo ghiotto le noci sgusciate gusto norberasco a 99 centesimi confezione di pomodori da portare sul lavoro insieme alla mozzarella per un totale di 15 euro e 94 centesimi spero che mi sia piaciuta la mia ruota spesa ciao